Ciao a tutti, sono Karim Mahiti, mi chiamo in arte Karim Isbeck e vengo da Casale Monferrato. Allora dopo la mia diciamo molto buona stagione dell'anno scorso, quest'estate è arrivata l'offerta dell'Elas Verona che secondo me come come parte e-sport è uno dei team migliori se non il team migliore e niente abbiamo trovato l'accordo ed eccomi qui a rappresentare l'Elas Verona. Con lo staff dell'Elas Verona ci sono trovato molto molto bene perché prima cosa sono molto disponibili e ti seguono molto e infatti qualsiasi cosa di cui io avesse avuto bisogno potevo semplicemente chiedere e avrei ricevuto subito risposta, la maggior parte delle volte in modo positivo. Quelli che mi seguono sanno che io non sono stato sempre tutto questo talento infatti fino a metà FIFA 20 ero un player normalissimo da oro 1 e poco prima della quarantena stavo piano piano facendo i miei primi risultati fuori classe 3, fuori classe 2 e con la quarantena d'attaccavo molto tempo libero e ho cominciato a fare i miei primi tornei, a vincere i miei primi gadget eccetera e ho scoperto di avere diciamo l'abilità per poter competere quando in questi tornei riuscivo a battere oppure semplicemente giocarmela con molti pro player che erano già affermati. Quando esce un nuovo FIFA è la parte dove si gioca di più perché essendo un pro player tu devi scoprire diciamo tutti i segreti e le meccaniche del gioco prima degli altri quindi nei primi tornei è chi acquisisce prima tutte queste meccaniche e niente quindi appena esce il gioco è proprio il momento in cui si gioca di più. Io oltre a FIFA prima giocavo ovviamente anche al calcio reale perché il calcio è la mia è la mia passione più grande. Ho giocato a calcio da quando avevo 5 anni fino a due anni fa quindi fino ai 18 anni. È stata la mia passione più grande ovviamente poi con quando FIFA è diventato un lavoro non ho più avuto il tempo diciamo per giocare al calcio reale però calcetto con gli amici eccetera qualche torneino non manca mai e comunque io lo collego molto al gioco di FIFA perché se tu riesci a capire molto bene il calcio reale puoi trasmetterlo nel gioco magari capendo anche semplicemente come funziona una sovrapposizione uno scarico un mezzo d'inserimento eccetera quindi secondo me sì sono molto molto collegati. Per diventare pro player ovviamente ci vuole secondo me anche quel pizzico di talento come nel calcio reale e soprattutto molto molto allenamento e secondo me è una cosa che non è non è da sottovalutare acquisire le cose che hanno gli altri per esempio tu per migliorare devi devi guardare quelli più forti di te oppure quelli che hanno fatto meglio di te e provare a rubare qualcosa da loro c'è qualcosa che ti manca perché se loro hanno fatto bene e tu hai fatto peggio di loro una motivazione c'è c'è sempre. Secondo me l'unica differenza tra l'Italia e l'estero diciamo parte proprio dalla base cioè dalla cultura dell'e sport infatti molta gente qua in Italia non vede ancora l'e sport come un lavoro oppure anche solo semplicemente quando rispondi io faccio il pro player ti dicono ma cos'è quella roba lì vai a trovarti un lavoro invece già nell'estero vedi che la parte sportiva è molto molto seguita anche magari ragazzini della nuova generazione magari a volte si mettono a guardare qualche competizione su qualsiasi videogioco quindi c'è proprio una una cultura dell'e sport molto diversa dall'Italia nelle altre nazioni però c'è da dire che negli ultimi anni anche con l'Italia è stata veramente una crescita molto molto notevole e speriamo sempre di andare avanti così magari un giorno raggiungere un livello molto molto alto. Secondo me ovviamente il player più forte che secondo me veramente anche se non ha fatto una buona qualifica ma tutti sappiamo la sua qualità è anche il campione dell'anno scorso con la mia battuta in finale Obrun 2002. Secondo me un altro player da non sottovalutare quest'anno è il player del Monza quindi è il calcio 98 che secondo me può fare molto molto bene. Ovviamente è stata una grande grande emozione anche solo arrivare in finale perché è stato il mio primo torneo così dal vivo e quando ero arrivato in finale e avevo giocato una buona buona finale pensavo di vincere veramente veramente raggiungere un'emozione incredibile poi è arrivata la sconfitta ai rigori che ha fatto ovviamente molto molto male c'è stata una grandissima delusione però quando la rabbia è passata ovviamente dopo un bel po di giorni un bel po di lacrime diciamo che è rimasta quella soddisfazione di aver fatto comunque un buon torneo. Ovviamente in questa seconda esperienza della Serie A arrivo con molto molto più esperienze magari anche molto più sicurezza in me stesso e ovviamente l'obiettivo per me quest'anno è solo uno cioè portarla a casa se non la vinco per me è considerato un fallimento. Ora io sono sempre stato una persona normalissima niente di strano andavo a scuola ho preso il diploma l'anno scorso nel perito informatico quindi facevo sia scuola che i FIFA insieme l'anno scorso e niente ho giocato a calcio come detto prima dai 5 fino ai 18 anni e ora invece sto frequentando l'università sto facendo economia aziendale e niente speriamo di riuscire a portare avanti sia al mondo dello studio sia al mondo di FIFA. Quando quando arriverà il momento di appendere il joystick al chiodo dovrò trovare un'altra strada che dovrò crearmi proprio nel frattempo ovviamente se ci sarà ancora questa parte di streaming eccetera vorrò veramente portarla avanti perché è un mondo che mi piace veramente tanto avere una community che ti supporta che ti segue con qui con cui alla fine scambi del tempo e divertimento oppure mi piacerebbe anche molto fare la parte del coach perché nel futuro ci saranno ovviamente molti player emergenti che hanno bisogno magari di quella sicurezza in se stessi eccetera e fare il coach avendo già l'esperienza di FIFA quindi già conoscendo il gioco eccetera può essere veramente molto d'aiuto. La cosa più bella è stata quando mi sono qualificato al mondiale con la nazionale di FIFA 21 quando ero in squadra con Rocco Guarino Guarino Junior e Pignone che è stato il primo anno della nazionale e siamo riusciti a qualificarci al mondiale per la prima volta. Ero veramente molto molto contento perché vedere tutta l'Italia che fa il tifo per te eccetera e tu sei riuscito a soddisfarli tutti è veramente un'emozione unica. Poi sfortunatamente il mondiale è stato annullato per Covid e non siamo andati a Copenaghen però l'emozione diciamo precedente è stata molto molto forte. La Serie A di quest'anno diciamo è diversa su un punto di vista rispetto a quella dell'anno scorso cioè la parte dei gironi perché quest'anno ci sono i gironi da sette squadre invece l'anno scorso erano da 4 barra 5 quindi le giornate di gironi sono diventate più lunghe e l'unica cosa che suggerirei di fare alla Lega della Serie A secondo me oltre alla Supercoppa che abbiamo fatto quest'anno di fare anche come fanno molti paesi esteri di aggiungere la nostra Coppa Italia quindi un'altra competizione e niente questo è il mio suggerimento speriamo si possa fare in un futuro io che posso vincere